Ciao amici, mi trovo alla pasticceria Antico Portico ad Amarvi sto facendo una piccola degustazione di dolci che sono veramente, veramente grossi consiglio a tutti di venire ad assaggiare al menù non tutti questi perché è roba da fare adesso però devo dire che in ogni tanto non basta e anche se fa tanto caldo, beh, il dolce secondo me rimpredda lo spirito, l'animo e...